Con l'aria densa di segreti e tensioni non risolte, l'episodio 262 si apre su un confronto acceso tra Hanna e la Marchesa Cruz. L'atmosfera è tesa e i residui della discussione precedente sono ancora palpabili. Hanna, con una determinazione che pochi hanno visto prima, esprime le sue ragioni riguardo alla necessità di denunciare la scomparsa di Maria Fernandez. La sua convinzione è forte ma è Manuel a sorprendere tutti, schierandosi al suo fianco. Con il suo intervento non solo protegge Hanna da un potenziale licenziamento, ma rafforza anche la sua posizione all'interno del palazzo. Mentre le discussioni si intensificano al suo interno, il palazzo è un vortice di attività. Il sergente Funes, in un momento di incauto zelo, si trova sul piede di guerra con Cruz. La sua scoperta della guardia civile che indaga nel palazzo scatena un'ondata di paranoia e sospetto. Ma nel cuore della storia rimane la tragica figura di Maria Fernandez. Sebbene sia stata rivelata la sua prigionia in una grotta, di cui però non si sa nulla, le sue condizioni rimangono un mistero. Le sue catene, la sua solitudine, sono una testimonianza del suo terribile destino. E mentre Maria cerca di comprendere il motivo dietro il suo rapimento, il palazzo accoglie Leonor con una mistura di gioia e apprensione. La sua presenza potrebbe portare nuove rivelazioni o svelare ulteriori segreti nascosti tra le mura antiche. In questo intricato labirinto di passioni, segreti e inganni, ogni personaggio è spinto verso il proprio destino e la verità si avvicina ogni giorno di più a venire alla luce. Maria, confinata in quel luogo oscuro e angusto, si trova in una condizione di profonda introspezione. La mancanza di luce e l'umidità dell'ambiente accentuano il peso delle sue preoccupazioni. L'oscurità non fa che intensificare la sua determinazione a trovare una via d'uscita e a svelare i segreti celati tra le pareti del palazzo. Il ritorno di Leonor al palazzo è accolto da un'atmosfera pesante e carica di tensione. Ogni angolo, ogni corridoio sembra nascondere un segreto e Leonor, con la sua acutezza, percepisce immediatamente che qualcosa è cambiato. Gli sguardi evasivi dei servitori e i loro bisbigli suscitano in lei un crescente senso di disagio. Ogni momento trascorso nel palazzo rafforza la sua convinzione che ci siano verità nascoste, pronte ad emergere. La sua determinazione a scoprire la verità si rafforza, ma al contempo cresce anche la sua preoccupazione per ciò che potrebbe scoprire. Il palazzo, una volta luogo di sicurezza e familiarità, si trasforma in un labirinto di misteri da decifrare. Pia cammina con una sicurezza che deriva dalla consapevolezza del suo ruolo e dal rispetto che ha guadagnato nel tempo e dalla protezione assicuratale da Cruz. Ogni sua azione è calcolata, ogni sua decisione è ponderata. La sua determinazione nel ripristinare l'ordine e nel porre fine alle dicerie non solo evidenzia la sua leadership, ma anche la sua dedizione al mantenimento della stabilità nel palazzo. In tempi di incertezza, molti cercano la sua guida, riconoscendo in lei una roccia in un mare agitato. Nell'atmosfera soffusa di una stanza illuminata solo dalle fiamme delle candele, Teresa e Feliciano condividono un momento di profonda connessione. Le sfumature di luce e ombra esaltano la profondità delle loro emozioni, rendendo ogni loro sguardo e gesto ancora più significativo. In questo angolo nascosto del palazzo, le maschere cadono e le vere passioni vengono alla luce, offrendo uno sguardo autentico sulle relazioni segrete e complesse che animano il cuore del palazzo. Pur indossando abiti che riflettono la sua posizione elevata, Salvador non riesce a nascondere la tensione che lo pervade. Ogni suo movimento tradisce una certa inquietudine, il peso delle recenti circostanze lo ha reso vulnerabile agli occhi degli altri. La sua consapevolezza di essere al centro dell'attenzione, non sempre positiva, lo rende ancora più cauto. Dopo il suo ritorno dal maestoso palacio de los duques de los infantes, Abel cammina con un'aura di gravità e determinazione. Ogni dettaglio del suo passaggio riflette la serietà dell'incontro avuto, la postura eretta, lo sguardo penetrante e ogni gesto misurato. La sala in cui si è tenuta la discussione, con le sue pareti adornate e gli arredi sontuosi, sottolinea l'importanza della sua proposta. Tuttavia, quando Manuel, con un'espressione impassibile, rifiuta, si crea un momento di tensione palpabile. Le conseguenze di questo rifiuto sono chiare, potenziali alleanze spezzate e un futuro incerto per le dinamiche del palazzo. Nel silenzio opprimente della sua camera, Manuel riflette sulle recenti svolte della sua vita. Il suo volto, segnato dal dolore e dagli strascichi emotivi, racconta una storia di tormento interiore. La scomparsa di Maria Fernandez ha agito come un terremoto, scuotendo le sue fondamenta e costringendolo a confrontarsi con sentimenti ed emozioni che preferirebbe ignorare. Ogni pensiero di dover visitare Ximena, anche se carico di buone intenzioni, sembra aggiungere un altro strato di complessità al suo già tumultuoso stato d'animo. E mentre la decisione di chiedere l'annullamento ecclesiastico si profila all'orizzonte, diventa evidente che Manuel è sull'orlo di un precipizio emotivo, cercando disperatamente una via d'uscita dalla sua sofferenza. Con un'aria di mistero e un atteggiamento sfuggente, Abel si muove nelle ombre del palazzo. Sebbene sia stato incaricato di consegnare un messaggio alla cameriera, la sua vera natura emerge quando decide di ignorare le istruzioni. La sua moralità ambigua e le azioni imprevedibili lo rendono un personaggio difficile da decifrare, alimentando ulteriori speculazioni sul suo ruolo e le motivazioni. Salvador, con un'espressione segnata e gli occhi persi nel vuoto, riflette la profondità del suo dolore. La sua incapacità di svolgere efficacemente il suo ruolo di primo lacché è evidente e la crescente pressione da parte del Marchese e di altri personaggi lo rende ancor più vulnerabile. Tuttavia, le decisioni prese da personaggi come Romulo e il Marchese sembrano metterlo ulteriormente in difficoltà, sollevando dubbi sul loro vero intento e su quanto realmente si preoccupino della scomparsa di Maria. L'atmosfera all'interno del palazzo è tesa e carica di segreti non detti. L'indifferenza manifestata da alcuni personaggi di spicco verso la scomparsa di Maria Fernandet solleva domande sulla loro lealtà e sulle loro priorità. La mancanza di azione immediata da parte di Hana, Salvador e Valentin per cercare Maria evidenzia un divario tra le percezioni di chi è veramente preoccupato e chi sembra non attribuire sufficiente importanza all'evento tragico. Questa tensione crescente e la mancanza di unità nel cercare Maria gettano un'ombra oscura sul palazzo, sottolineando la complessità delle relazioni e delle alleanze in gioco. Curro, sentendosi sopraffatto dalle sue responsabilità e prevedendo l'arrivo di Leonor, decide di dimettersi dal titolo di conte di Lamata. La sua intenzione di ereditare il titolo di uomo di Lamata nasce dalla volontà di proteggere la sua influenza e status nel palazzo, temendo che la sua posizione attuale possa essere compromessa. Simona, ansiosa di ricevere una risposta da Antonito, ignora le ragioni del ritardo della corrispondenza. Tuttavia il ritardo è causato da Valentin, che ha intercettato la lettera nella speranza di proteggere Antonito da rivelazioni scomode. La scoperta della figlia dimenticata di Simona sottolinea la sua lotta con il suo passato e il desiderio di riconciliazione. Nel capitolo 264, un momento di tensione palpabile invada il palazzo quando Maria Fernandez, con gialli occhi pieni di riconoscimento e terrore, identifica finalmente il suo rapitore, Valentin. La sua ossessione per la giovane donna è profonda e distorta. Ha segregato Maria con l'intenzione perversa di manipolarla psicologicamente, sperando di farla innamorare di lui attraverso metodi contorti e coercitivi. Questo drammatico sviluppo, che svela la profondità dell'oscurità di Valentin, promette di avere ripercussioni profonde e potrebbe rivelarsi un punto di svolta cruciale nella trama. Leonor, con il suo intuito acuto e sospettoso, non ha bisogno di molto tempo per percepire l'atmosfera tesa e i segreti celati nel palazzo. Trova Martina e il suo amante in un momento di intimità, svelando la loro relazione clandestina. Nonostante il peso della sua scoperta, Leonor sceglie di mantenere il segreto, utilizzando la conoscenza a suo vantaggio e conservando un asso nella manica per eventuali futuri confronti o negoziazioni con i cugini. Mentre il dramma si svolge altrove, Catalina si immerge in questioni di affari. L'Ope presenta una salsa di pomodoro innovativa e deliziosa. Dopo averla assaporata, Catalina, con il palato ancora eccitato, vede il potenziale commerciale della ricetta. Si rivolge a Pelaio, suggerendo che questa potrebbe essere la prossima grande opportunità per il palazzo, una mossa che potrebbe rinnovare la prosperità e l'influenza della famiglia. Geronimo, sempre attento alle dinamiche e alle minacce esterne, si avvicina a Pelaio con una notizia preoccupante. La notizia del ritorno di Cavendish potrebbe portare Pelaio e Geronimo a intensificare i loro sforzi per proteggere i loro segreti e mantenere l'ordine nel palazzo. Potrebbero essere costretti a prendere misure drastiche e a formulare piani per gestire la situazione imminente. Romulo, agendo in qualità di supervisore o mentore, comunica a Salvador una notizia difficile. Non ha superato il periodo di prova come primo lacché. Mentre Salvador potrebbe aver sospettato di un esito simile data la sua recente performance, la notizia lo colpisce profondamente, minando la sua fiducia e il suo senso di identità all'interno del palazzo. Salvador potrebbe trovarsi a fare i conti con la realtà della sua situazione e a riflettere su come procedere. Questo potrebbe servire come un momento di crescita per lui, spingendolo a cercare modi per riscattarsi e dimostrare il suo valore. Nel frattempo, Romulo potrebbe essere spinto a trovare un sostituto o a riconsiderare le sue decisioni riguardo a Salvador. Valentin, inizialmente visto come una figura di interesse e preoccupazione, si rivela essere una sorpresa inaspettata per tutti nel palazzo. La sua presenza e il suo comportamento suscitano domande e sospetti, specialmente riguardo alla sua vera intenzione di trovare Maria Fernandez. Valentin, con uno sguardo penetrante e un sorriso malizioso, intrattiene la Marchesa in una conversazione ricca di doppi sensi e allusioni. Ogni suo movimento e gesto sembra studiato per destabilizzare e confondere la donna, gettando ombre di dubbio sulle sue intenzioni. La Marchesa, pur essendo una donna di potere e saggezza, si trova costantemente un passo indietro in questa danza verbale e psicologica. Simona, donna di natura intuitiva e protettiva, nota le stranezze nel comportamento di Valentin. Ricorda i tempi in cui era vicino a suo figlio Antonito e come le loro relazioni sembravano essere fondate su una profonda amicizia. Tuttavia, le incongruenze nei racconti di Valentin e le sue azioni sospette alimentano il fuoco dei suoi sospetti. Ogni incontro con lui rafforza la sua convinzione che nasconda qualcosa di oscuro. Ana, sentendo le preoccupazioni di Simona, decide di agire. Condivide le sue preoccupazioni con il sergente Funes, un uomo di legge astuto e determinato. Insieme, elaborano un intricato piano per esporre Valentin. Questo coinvolge l'uso di informazioni riservate, pedinamenti e, infine, la creazione di una situazione in cui Valentin si sente sicuro di agire. L'intervento di Ana e Funes crea più problemi anziché risolverli. Maria Fernandez, inizialmente estranea agili eventi, si trova nel caos. Le sue speranze di uscirne indenne si riducono. Ora, nel palazzo, ci sono più segreti e rischi di prima. Valentin, consapevole che la rete si sta stringendo attorno a lui, decide di prendere una decisione estrema, fuggire dal palazzo. Con il cuore che batte forte e il sudore freddo sulla fronte, Valentin attraversa i corridoi bui, cercando un'uscita. Ma mentre sta per raggiungere la libertà, un colpo echeggia nel silenzio. Una guardia civile, seguendo gli ordini o forse agendo per istinto, spara a Valentin, ferendolo mortalmente. Ana, che ha seguito da vicino Giglieventi, raggiunge Valentin poco dopo. Con lo sguardo annebbiato dalla disperazione, tiene tra le braccia l'uomo morente. Le parole non sono necessarie. Il silenzio e lo sguardo di Valentin dicono tutto. Con la sua ultima esalazione, il segreto che avvolge la posizione di Maria Fernandez sembra perdersi per sempre. La notizia della morte di Valentin si diffonde rapidamente nel palazzo. I cuochi, che erano stati sospettosi delle azioni di Valentin, sono colpiti dalla brutalità dell'evento. Simona, d'altra parte, è travolta da un'ondata di realizzazione. Le menzogne di Valentin, i suoi inganni e le sue manipolazioni diventano chiare. In particolare, le bugie riguardanti suo figlio e la sua connessione con Valentin la lasciano senza parole. Mentre il palazzo digerisce la notizia della morte di Valentin, un altro segreto borbotta sotto la superficie. Pelaio e Geronimo, nel tentativo di proteggere e avanzare nel loro oscuro commercio di armi, hanno avuto un incontro segreto con Mr. Cavendish. Questo incontro, precedentemente sconosciuto, viene ora scoperto da uno sguardo indiscreto. Le implicazioni di questa rivelazione potrebbero essere devastanti, portando a nuove alleanze, tradimenti e pericoli imprevisti per i residenti della promessa. Leonor, immersa nel programma di protezione testimoni, si trova in una posizione delicata. Mentre si nasconde e osserva i vari personaggi intorno a lei, diventa testimone di un momento intimo tra Curro e Martina. Questo bacio, carico di emozioni e segreti, mette Leonor in una posizione in cui deve decidere se e come utilizzare questa informazione. Ana, già devastata dalla perdita di Valentin, si ritrova in un vortice di emozioni. La sua disperazione è palpabile, mentre prega incessantemente per il ritorno sicuro di Maria Fernandez. La sua angoscia e la sua ansia crescenti mettono ulteriormente pressione su Maria, che deve affrontare non solo la sua traumatica esperienza di rapimento, ma anche la profonda preoccupazione e il dolore di Ana. Nel frattempo, Ana svela a Curro, un segreto legato alla loro stirpe, una rivelazione che sconvolge profondamente Curro, scuotendo le fondamenta della sua comprensione della propria identità e del suo posto nel palazzo. Abel, dopo un periodo trascorso presso la casa dei duchi degli Infantes, torna con una proposta per i marchesi. Suggerisce che Manuel dovrebbe visitare la residenza. Sebbene Manuel inizialmente rifiuti, suo padre interviene, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi futuri e a nuove dinamiche all'interno del palazzo. Con il ritorno imminente del signor Cavendish e con la morte di Valentin che getta un'ombra di incertezza sul palazzo, le tensioni raggiungono livelli senza precedenti. Grazie mille a tutti per il vostro continuo supporto e interesse. Come sempre, se avete trovato valore in questo video, vi prego di mettere mi piace e condividere le vostre opinioni nei commenti. E se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo. La vostra iscrizione significa molto per me e aiuta il canale a crescere.